Ognuno amici di Dio Paolo vorrei fare un appello per me stesso, mi piace il mare, mi piace molto il mare, Dio Colossi voleva fare la barca da pesca per fare la pesca turismo e molte gente me lo chiede Dio Paolo perché non si fa la barca da pesca, mi farebbe piacere o requisiti per fare questo lavoro, o la patente da comandante o la patente da motorista o tutte le patente per lavorare. Però purtroppo ho avuto difficoltà e Dio Paolo non mi posso prendere più la barca, volevo fare una raccolta a fondi a chi farebbe piacere aiutare Dio Paolo, un euro, due euro, chi mi potrebbe aiutare? Volevo ricuperare almeno un racconto per comprare la barca da pesca, io ci credo, e se riuscivo a fare questo mi comprevo la barca, la volevo chiamare Dio Paolo e i figli, una cosa molto bella. Purtroppo le mie possibilità sono qua, io sono a lavorare per cercare di mantenere la famiglia e non riesco a fare gente, non riesco a fare un contatto per la famiglia a barca. Mi farebbe molto piacere fare la pesca a turismo, sono bravo a cucinare, fare la mangiare a bordo per le persone, fare un giro per le coste, è molto bello. Fare una minicrocena sempre da pesca, è molto bello fare questo. Però purtroppo le possibilità che a Dio Paolo non la possono fare. Mi farebbe piacere mettere un codice IPA in evidenza, magari qualcuno mi vuole aiutare, lo accetterò col cuore. Poi con i tempi vi racconterò la storia di Dio Paolo. Se c'è qualcuno che mi vuole aiutare mi fa veramente piacere col cuore. Col cuore in mano lo sta dicendo Dio Paolo. Perché fare 5 giorni e 5 noti sempre a mare Dio Paolo non ce la fa più. Sto diventando grande, ho 50 anni, la mia possibilità non ce la faccio più. Poi d'inverno soprattutto la mano mi fa male quando c'è il peso. Devo andare a lavorare perché ne ho bisogno. Però vorrei cambiare il mio modo di lavoro. Fare 5 giorni e 5 noti però quando mi piacere è mio. Fare la pesca a turismo che è la cosa più bella. Se riuscivo a avere questa possibilità ringrazierò a Dio. Amici di Dio Paolo grazie per il momento. Poi chi vuole collaborare lo accetto con il cuore. Sono una persona umile come migliaia e migliaia di persone. Però regaliamo soldi a chi usa e chiamo di aiutare un sacco di gente nel mondo globale. Se c'è qualcuno che le fa piacere mi vuole aiutare. Per ringrazio. E con questo continuo a fare la pesca. Continuo il mio lavoro perché lo amo. Apprezzo il mio lavoro e lo amo molto. Un abbraccio a Dio Paolo. Buona giornata. Ci vediamo presto. Grazie.